Al Fattori l'Aquila gioca contro l'Ancona la partita più delicata della stagione. Sarà infatti il primo match del Rosso-Blu dopo la penalizzazione in classifica a causa del processo sul calcio scommesse che ha fatto scivolare gli uomini di Carlo Perrone dalla zona medio-alta al terz'ultimo posto. Un vero shock dal punto di vista psicologico che squadra, dirigenza e staff tecnico hanno cercato di assorbire nel migliore dei modi nel corso della settimana. Alla luce della nuova graduatoria è inutile sottolineare quanto gli aquilani abbiano bisogno di punti per risollevare subito la classifica e mettere il naso fuori dalla zona play-out. Il tutto in attesa che la giustizia sportiva faccia il proprio corso. Il secondo grado di giudizio potrebbe infatti restituire diversi punti al Rosso-Blu. Intanto, sfogliando l'album dei numeri, l'Aquila può sorridere pensando all'ottimo trend casalingo in campionato. I Rosso-Blu infatti sono reduci da sette risultati utili consecutivi tra le mura del Fattori. L'ultima sconfitta risale a quasi quattro mesi fa. Era il 10 ottobre 2015 e l'Aquila perse in casa contro il Savona per 1-0. Di contro ci sarà l'Ancona di Giovanni Cornacchini, reduce dall'importante vittoria casalinga contro il Pisa, ma anche da tre pareggi e una sconfitta negli ultimi quattro impegni lontano dalle mure amiche. I marchigiani non vincono lontano da casa dal 22 novembre scorso, quando sbancarono Pistoia con una rete di Di Mariano. Intanto il capitano dell'Aquila, Claudio De Sousa, suona la carica alla vigilia, guardando il bicchiere mezzo pieno dopo la penalizzazione. Siamo sereni, perché noi sapevamo della penalizzazione, l'aspettavamo, finalmente è arrivata. Tutto sommato la classifica non è poi così brutta come poteva sembrare alla vigilia, perché siamo a meno 5 ad oggi dalla salvezza e senza play-out, quindi ci dà ancora più forza per affrontare la partita di sabato, che è una partita importantissima, come tutto del resto fino alla fine. Sul fronte formazioni il tecnico rosso-blu Carlo Perrone si porterà dietro fino all'ultimo il dubbio sul modulo 3-4-3 o 3-5-2. Al momento ad essere sicura è la difesa a tre con la conferma in blocco di Pesoli, Cosentini e Piva. Nel caso poi si dovesse optare per il centrocampo a 5, Triarico e Ligorio agiranno da esterni con Bulevardio, De Francesco, Manuel Mancini e Milicevic nel mezzo. In Casancona mancheranno Conateco, Nigni e Sassano per squalifica. Ci sarà il debutto dell'attaccante ex L'Aquila Alberto Libertazzi e non è escluso anche quello dell'altro ex di turno, Marco Frediani, appena giunto in prestito in bianco-rosso dopo i sei mesi trascorsi in Serie B con Lascoli.